Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. 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 solo delle vecchie messe delle vecchie schiariture resta star ai milioni star e blighi ora qua stefano bugada che il nostro direttore artistico cosa farà migliore quando bugada di scopriamo direttore applicherà il colore in base precisamente illuminiti 531 e poi la siti che c'è c'è mentre imposa il colore andrà a ricreare le schiariture dove servono quindi quindi cosa significa scusate un attimo dicevo quindi cosa significa questo che noi possiamo mettere il decolorante in contatto con il colore e vedete lui va a ricreare le schiariture ora qual è il vantaggio che la crema del decolorante si lega molto bene alla crema del colore quindi non si crea una di solito quando si utilizza il decolorante insieme al servizio colore quando il decolorante e la crema del colore si toccano se il decolorante in polvere rimane nel punto di contatto un alore più rosso più rossastro questo invece non avviene con la crema decolorante quindi diventa facile andare a creare un lavoro di questo tipo adesso vado avanti nel video ok quindi vedete che Stefano va a ritoccare a ricreare tutte le sfumature che gli servono ok ora cosa succede noi abbiamo fatto una cosa una volta finito il lavoro abbiamo solo risciacquato e fatto lo shampoo senza tonalizzare ovviamente senza tonalizzare cioè cosa vuol dire senza andare a fare un colore dopo la schiaritura quindi l'abbiamo semplicemente risciacquata lavata e asciugata non ha dato il rosso cosa che succede spesso non ha dato il rosso cosa che succede spesso cioè spesso quando si va mettere in contatto un decolorante in polvere con un colore contemporaneamente quindi questo è un dettaglio migliorativo della crema che però in realtà ovviamente vi fa lavorare meglio in sicurezza vedete il risultato dopo la ragazza è stata tonalizzata con un altro colore ma diciamo che la parte interessante è questa dove si vede quanto la blonda 4 sia un decolorante che pulisce molto bene le schiariture e non lascia... vedete da come la blonda 4 vedete che la blonda 4 e non lascia lunghi lo sastri e non lascia lunghi e non lascia lunghine e non lascia lunghi l'abbine non lascia larmi questo è un punto fondamentale da conoscere della blonda 4 e poi ricordatevi che quando dovete schiarire un capello colorato che è già stato colorato e quando вам bisogna assicurare già peccati potete lavorarlo e averlo molto chiaro grazie alla Blonde 4 proprio perché non si ferma mai e potete bene e 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 bene con questo tipo di decolorazione a 10 e a 20 volumi potete arrivare alle schiariture che volete ma se будете lavorare на 10-20% 3-6% можете получить любое осветление che voglite ok la Blonde 6 è il decolorante in polvere più classico Blonde 6 è l'obesveggio il strumento la più classica che può essere in polvere giusto la videoparasca questo è principalmente conveniente quando si lavora nelle tecniche di mesh o di highlights cioè quindi con i fogli di alluminio è molto interessante perché questa decolorazione è protettiva quindi noi sappiamo vai prego e quindi noi sappiamo che quando chiudiamo dentro una carta stagnola il decolorante il prodotto è molto importante capire che quando noi fulgiamo il prodotto può diventare più aggressivo in questo modo noi sappiamo che quando noi fulgiamo il fulgiamo il sreddo stanno più aggressivo tutto si lavora in questo modo con la Blonde 6 invece abbiamo un bellissimo livello di schiaritura un decolorante facile da applicare e il capello ovviamente molto protetto durante la schiaritura e nel tempo di sveglione e nel tempo di sveglione i волos restano bene защitati ora se io giusto per capirci velocemente allora vediamo un po' ok per esempio mi senti bene adesso? sì 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 a scatti così come ieri però non incide sulla qualità di comprensione quindi non è migliorata sta cosa che ho messo le cusce no 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 non è proprio alla linea proprio alla linea che strano no no allora me le posso togliere le cusce mi sa che non cambia niente come come voi allora mi senti? sì perfetto allora stavo dicendo perciò qua vediamo se si vede così ok allora questa qua velocemente devo tutto il trinca è un caso in cui noi andiamo a vedere la scusate che il video non risponde da un attimo io non so che l'ha preso ora ora vi dover di non so che cosa abbia non risponde il video ok adesso si dovrebbe vedere allora stavo dicendo in questo caso andiamo abbastanza veloci vedete che qua io sto utilizzando la blonde 6 per esempio a 10 volumi e ovviamente posso arrivare molto vicino all'attaccatura proprio perché la decolorazione come sua caratteristica ha quella di non gonfiare di rimanere molto stabile ed avere una bella presa sulla cartina perciò è facile da applicare quindi è molto semplice arrivare molto attaccati e in sicurezza ecco perché la blonde 6 da questo punto di vista diventa sicuramente il decolorante migliore da usare quando si lavora in cartina quindi quando lavorate con la folga è ideale abessvettivare abessvettivare il pорошetto che recommendo usare ok avanti volo farvi vedere una cosa allora ecco vedete questa l'ultima cartina vedete quanto si può arrivare attaccati смотрите la ultima folga vedete che è vicino che è vicino che è vicino alla кожa e il prodotto non esce perciò è molto sicuro allora adesso io ho fatto una cosa dovrò vedere adesso io ho fatto una cosa ci saranno immagini che vi farà vedere io ho forzato molto sono andato molto vicino all'attaccatura cioè proprio vicino alla cuda e l'ho fatto volutamente per far vedere che il decolorante è perfettamente controllabile vedete 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 quanto si può arrivare attaccati perfetti senza senza pericolo ovviamente di macchiare questo è diciamo uno dei vantaggi principali per cui è facile lavorare con la blonde 6 avere una bella schiaritura capelli protetti e poter lavorare veramente con il massimo controllo è questo è una prima che avete un controllo sui risultati sui lavori e che ci sono le quali costruzioni e costruzioni e sembrano le costruzioni e costruzioni. Ok, allora andiamo sull'ultimo, velocemente poi andiamo a vedere le casistiche. Andiamo sull'ultimo, è la Blonde 7, penso molti di voi. La Blonde 7 è il decolorante più potente che abbiamo. La Blonde 7 è la più potente, la più potente. In realtà è una decolorazione che può arrivare anche fino a 9 livelli di territorio. e è una decolorazione ideale per il lavoro a mano libera. Le tecniche di balayage, cioè le tecniche a mano libera dove si ha bisogno di un decolorante più potente. e che abbiano una corposità ideale per lavorare con l'effetto a mano libera. Vediamo anche qua velocemente un video per... però questo lo vedete bene? è ovun dire also bene a video, il video è tutto normale, collega? Ruslan, il video è tutto normale? Larissa, la parrucchiera mi dice che quello che sta colorando i capelli, il video riesce a vedere bene, tutto a posto. Ok, ottimo. Allora, vedete che qua io farò un lavoro a mano libera, quindi un balayage. Ora faccio tutta la roba balayage, tecnica di soluzione di mano o cucizza con l'acqua. E ovviamente vedete la modella ha capelli lunghissimi e colorati. Vedete, le donne sono i capelli molto lunghi e colorati. E ovviamente la devo fare molto chiara. E ovviamente mi occorrerà un decolorante potente, veloce e che sia facile da manettere. E che sia facile da maneggiare, da lavorare, perché i capelli sono molto lunghi, perciò è un lavoro più difficile. Ok, abbiamo preso il caso più difficile. Ora, al di là della tecnica che in questo caso, è una tecnica che noi chiamiamo accross, ad incrocio praticamente. Questa tecnica che noi chiamiamo pericolata, è molto utilizzata nel balayage da parte nostra perché sovrappone... ...tecnica pericolazione, questa è usata in balayage molto часто. ...sovrappone sempre tre sezioni, poi si ripete, vedete? ...to есть, друг на друга накладываются tre разные zone e poi questo è un effetto molto naturale, molto sfumato e diffuso del balayage. ... ... ... Ovviamente prima di partire con il lavoro ho spruzzato il Color Pro, il nostro prodotto multifunzione. In questo caso mi fa da protettivo. ... ... ... ... ... ... ... ovviamente la Blonde 7 ha questa caratteristica di avere una cremosità ideale per poter lavorare a mano libera. Vedete che le linee si ripetono in questo modo, guardate la linea blu, sarebbe la prima la seconda verde è questa diagonale e quella rossa è quella che chiude la prima sezione di Balayage. Poi dopodiché il set si ripete, un fatto che ripetersi. E questo genera, è semplice da fare, genera veramente un bell'effetto per chi ama il Balayage, quindi l'effetto chiaroscuro, genera veramente un effetto molto naturale. Vedete che qua ho bisogno di un decolorante veloce e potente perché avendo i capelli molto lunghi... Per esempio avrei potuto usare anche la Blonde 6, quella di prima... Non è che non sarebbe andata bene, sarebbe andata bene, ma sarebbe stato difficile ottenere lo stesso risultato che vedremo qua. Ok, andiamo avanti... Vedete che la densità del prodotto vi permette, questo grazie anche al pennello grande, di fare la sfumatura... ... 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 ci sono delle vecchie diciamo barrature, c'è la ricrescita, quindi per esempio in questo caso Emiliano lavorerà con tre prodotti, questo tipo di tecnica è veramente un pochino più particolare ma molto bella perché l'effetto finale è bellissimo di ricostruzione del colore e di movimento. Allora, nella modella del Blonde 4 si è lavorato a 10 volumi, il primo video. Nella modella ultima invece, quella che ho fatto io nel video, quella con capelli lunghi, ho lavorato tutto a 20 volumi con la Blonde 7. Perché i nostri decoloranti non hanno bisogno di volumi alti, perché… Perché i nostri decoloranti non hanno bisogno di volumi alti. Per esempio la Blonde 7, l'ultimo video che abbiamo visto, ha permesso di schiarire molto perché è proprio potente il decolorante, al di là dei volumi che io metto. In linea generale non serve mai oltre passare i 20 volumi nella Blonde 7 e nella Blonde 4, quindi quella in crema… In questo caso, quando lavorate con Blonde 7, non bisogna lavorare più di 20 volumi. Quindi quella in crema e quella in polvere grigia, per capirsi, in queste di solito non si va oltre i 20 volumi, mentre invece con la Blonde 6, quella polvere blu dove io facevo le stagnole con le cartine, lì si può anche arrivare a 20 o 30 volumi perché è un prodotto più delicato. Se Niederva 6, la Blonde 6, voi potrebbe lavorare smella, per 20 e anche per 30. Ostanti Blonde 10 volumi, per 20. E Niederva 6. Tempo di posa. Allora, la ragazza, l'ultima che ho fatto io, c'è stata un'ora come posa… un'ora, sì, almeno un'ora. Sì, la finalità è una prima. un'ora. Un'ora, un'ora, geni, un'ora, un'ora… Perché è meglio, come dire, fare una sola applicazione, quindi senza dover ripetere, anche perché nel balayage non si può ripetere la schiaritura, perché viene fuori un disastro, quindi deve venire bene alla prima il balayage, e però magari aspettare qualche minuto in più. Voi sapete che quando lavorate, quando facciamo il balayage, il regolo è così, è meglio aspettare, cioè un'ora, magari un'ora e cinque, un'ora e cinque minuti. È meglio dare più tempo, ma nessun caso non fare il balayage due anni o sette. Questo in realtà ci fa guadagnare molto tempo, perché una volta che la schiaritura è venuta bene, dopo è facile tonalizzare e fare tutto il resto. Sì, guardate, abbiamo fatto un'esplosione normale e poi abbiamo fatto un tono tranquillamente e lavorato. Ne parleremo meglio negli esempi che faremo tra poco ancora. Sì, ora ci saranno alcuni esempi, e di questo vi parlerò in dettaglio. Nella decolorazione in generale è meglio aspettare qualche minuto in più e non ripetere la decolorazione se possibile. Vedete che qua Emiliano fa praticamente delle triple applicazioni. Vedete che qui Emiliano fa traino e non ripetere l'esplosione. Separa due strati, perché andrà a fare tre situazioni diverse, una in schiaritura, una in scuola. Perché qui viene utilizzata la Blonde 6, questa volta, quindi la decolorazione azzurra, che la schiaritura che ci serve non è altissima, quindi ci serve solo riprendere la schiaritura che lei già aveva, perciò ci serve un decolorante molto delicato. E la Blonde 6 è sicuramente quello più delicato che abbiamo. La Blonde 6 è la stessa più nera e più delicata che abbiamo. Ok. Dopodiché ha lavorato con una sezione, sempre con Blonde 6. Con la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova. Adesso lo vediamo. Adesso lo vediamo. Ok, qui ripete quello che hai fatto prima, volevo far vedere la sezione completa. Adesso ha preso la seconda sezione in tricotage e la schiaritura. E la schiarisce sempre tutta con la Blonde 6. E la schiarisce tutta con la Blonde 6. Una doppia schiaritura. E poi l'ultima ciocca che fa di questa sezione utilizza il Blonde Ombre. Vediamo se lo possiamo vedere. E la ultima parte di questa zona è il Blonde Ombre. Usa il famoso Blonde Ombre. Il Blonde Ombre, di cui abbiamo parlato. Questo qua. Ci serve a dare l'effetto scuro. Quindi ridare. Questo può ridare l'effetto zatemnione. Ridisegnare il Blonde, come abbiamo visto prima. Risegnare le ombre nel Blonde. Prarissare il Blonde, prarissare le volne. Mancavano. Qua il Blonde Ombre viene utilizzato a 5 volumi. Sempre 5 volumi. Ok, la tecnica si ripete. Ora... La tecnica si ripete. Se vorrete poi le vedremo insieme. Una volta che ci rincontreremo fisicamente, le possiamo lavorare insieme. Посмотрели come funziona. Ecco, continua il lavoro. Lui non fa altro che ripetere la sezione. Quindi prima con il decolorante. Quindi la mano libera. Non mi provocare il tuo lavoro. Il decolorante a mano libera. Poi il tricotage. E poi sempre la parte con... La nostra abistrige la stessa di tenere con le ruote e poi il tricotage. E poi sempre la parte con il Blonde Ombre, ovviamente. E poi il Blonde Ombre. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Eccolo qua, vedete? L'ultima la chiude sempre. L'ultima, la chiude sempre. L'ultima, la chiude sempre. In questo caso, tra l'altro, l'ho usato il Blonde Ombre, numero 6 fino qua. E poi sulle punte... Il Blonde Ombre è spesso da qualche cosa. Sulla punta ha cambiato colore. Ha usato il Luminini 831. Vedete che... La bellezza del lavoro è proprio quella di ricreare movimento, contrasto e volume di colore. La bellezza del lavoro è proprio quella di ricreare movimento, contrasto e volume di colore. Quindi qua lui ha utilizzato il Blonde Ombre 6. Quindi... C'è una tonalità leggermente fredda. Sulla punta invece ha utilizzato il Lotto 31, che invece ha una tonalità di colore, più chiara e leggermente più calda. Proprio per dare appunto questa sensazione di movimento molto naturale e... Per ricreare l'effetto ombra. Ok. Ok. è il suono che cambré e che voi da qualcosa che c'è seguito che voi ne? che si chiedono ho il suono ho un uomo il suono o è così o è così o no? che la domanda? eee ecco c'è il suono non capire all'erre il suono o è così o non è così o è così o è così o è così o è così ok ok No, la domanda non c'è. Ok, qui sta finendo ovviamente il lavoro. In questo tipo di seminario si vedono le sfumature di balayage compatte e quelle fatte a velatura. In questa tecnica che state vedendo ora si è ricostruito il colore e al tempo stesso si è schiarito, quindi si è fatto praticamente e ridato profondità. Quindi abbiamo fatto tre servizi in una sola applicazione. Adesso Emiliano ha rimesso il blonde ombre in base per tonalizzare tutto. Sempre per dare quella profondità che i clienti amano adesso, avere questa sfumatura. E sulle lunghezze ha lavorato con il toner 037. Quindi ha lavorato con la famiglia dei toner, che penso molti di voi conoscano, adesso ne parleremo meglio, per andare a tonalizzare, a creare ogni tipo di biondo. Ok, adesso vediamo il risultato. Vedete che il capello appare più sano. Vedete, le ombre e le luci del colore sono stupende. Vedete, le ombre e le luci del colore sono molto belle. Ok. Bene. Allora... Dunque, il toner che credo tutti voi conoscete... No, credo che tutti voi conoscete cosa è il toner, vero? Io comunque lo spiego sempre e velocemente, prima di andare poi nei dettagli. In ogni caso, prima di andare in dettaglio, io raccomando più. Ok. Allora... Dunque, stavamo dicendo, eccolo qua. Praticamente, sono dieci tonalità di toner che servono esclusivamente per lavorare sui capelli schiariti e decolorati. Quindi, molto semplice, contiene all'interno acido lialuronico. Quindi, una sostanza che va a compattare la struttura mentre la colora. E ovviamente è specifico per i capelli decolorati, perciò li rende più belli. Quindi, eliminare il giallo, da la tonalità che noi vogliamo, ma in più ristruttura al capello. Perciò è un prodotto molto importante... E' un prodotto molto importante da utilizzare, appena fatta la decolorazione, colpi di sole, le meshe, il balaiaggio... E' un prodotto molto importante da fare, diciamo, del biondo. Eccolo, bravo, sì, la idea è proprio così. Eccolo. 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 Esatto, questo lo rende facile da usare perché appena ho risciacquato la decolorazione. Ovviamente applico direttamente al lavatesta su capelli umidi il toner, perciò molto veloce il procedimento, e in 5-10 minuti ottengo il risultato di tonalizzazione. E per 5-10 minuti ho avuto un effetto di tonalizzazione. Questo sicuramente è uno degli aspetti più importanti di questo prodotto. con questo questo prodotto. Esatto, è una delle prime somi quali caratteristiche. Si può tradurre in tre parole il toner, diciamo, dal punto di vista del servizio. Si può tradurre in tre parole chiave. Ci sono delle tre parole per creature. Allora, una parola è ovviamente Biondo Perfetto, quindi ottieni la tonalità che... La seconda cosa è ristrutturazione del capello appena decolorato. La terza cosa è un prodotto che non altera i capelli naturali. Quindi lavorare solo sulla parte decolorata, questo è interessante. Allora, come state vedendo qua, velocemente, prima di entrare nel merito di alcune parti di decolorazione particolari, voglio finire questa, diciamo, spiegazione con questi prodotti. Per esempio, qua è molto importante che ricordiate che i capelli decolorati si trattano esclusivamente con questa linea, che è la Save My Blonde. Sia in salone che a casa. Quindi una volta che ho decolorato, io devo sempre lavare con lo shampoo Save My Blonde. Sia in salone che a casa, e ovviamente ho le diverse taglie, a seconda di quello che devo utilizzare. Poi abbiamo la maschera intensiva, ultrarapida. Quindi da usare sia in salone che a casa, per mantenere la bellezza del capello. Quindi da usare sia in salone che a casa, per mantenere la bellezza del capello, che è un prodotto invece che si mette sul capello umido prima di asciugare. Questo si applica su capelli umidi, non si risciacqua. Questo qua è il regalo migliore che voi potete fare ai capelli biondi, perché li compatta, li struttura e li fa apparire veramente molto sani quando sono asciugati. Ok, quindi ricordate sempre questa linea, una volta che fate i biondi, questa è la nostra migliore linea per… E per mantenere la massima soddisfazione della cliente bionda. E per mantenere la massima soddisfazione della cliente bionda. E per mantenere la massima soddisfazione della cliente bionda. Ok, dopo vedremo un altro aspetto di questa linea qua, voglio farvi vedere… Se esce, allora… Ecco qua, ovviamente vedete l'utilizzo del toner, direttamente a lavatesta, come abbiamo detto, e poi… E poi il nostro SS Balm, il prodotto che dicevamo prima che non si risciacqua… E poi il prodotto eccellente da dare anche alla cliente a casa, che lo mette tutte le volte… E l'ideale, il prodotto che potete vendere al cliente per l'utilizzo di casa. Il biondo sicuramente rimane molto più bello… Ok, due minuti ancora, solo per questi tre prodotti, che sono importantissimi… ...poi andiamo a vedere… E questo si usa esclusivamente dopo aver fatto… un tonero o un colore… Lava e condiziona il capello in un solo passaggio e reacidifica il pH dei capelli e della cute perciò le riporta una stabilità naturale in più fissa il colore e chiude molto bene la cuticola dei capelli è un prodotto ricordate sempre che si mette sia come shampoo e poi anche sulle lunghezze come se fosse un condizionante di fatto lo è in un passaggio solo avete ok questo quindi dopo il toner o dopo anche un absurdo in questo caso però toner o blonde ombre ok andiamo avanti questo è il multifunzione che voi conoscete color pro avete visto che nei video lo usiamo prima per proteggere il capello prima di lavorarlo tecnicamente però si usa anche dopo come effetto protettivo anticrespo e acidificante del capello e poste di lavoro dalla stai ma možemo da nasi della tavo stop e ubriarati effetti push is testi e smiato di totti slatu capo resta di arpa esatto poi qua abbiamo l'ultimo prodotto che let pro che è un olio per chiudere doppie punte e si mette da capello asciutto e il servizio che si chiama Light Pro che si chiama Light Pro che si chiama l'ultimo prodotto che si chiama l'ultimo prodotto che si chiama l'ultimo prodotto scusate se siamo stati un po' sul prodotto però era importante per andare a vedere adesso nello specifico come si lavora quali decoloranti si scelgono e quali prodotti si scelgono allora partiamo per esempio dal primo lavoro eccolo qua allora come vedete questa è una modella che ha fatto Tony il nostro direttore accademico nel suo salone Tony Tony Proietti qui fate molta attenzione perché si entra nel merito ovviamente in modo esatto di quello che adesso si va a fare con i prodotti tra l'altro la decolorazione anche se oggi io ovviamente ho fatto una presentazione un po' più veloce perché due ore sono pochissime per lavorare diciamo sui biondi ma insomma ci faremo questo caso perché l'abbiamo messo qua e ve lo facciamo vedere intanto che cosa abbiamo utilizzato allora sulle lunghezze punte già decolorate con vecchia decolorazione sulle lunghezze punte già decolorate con vecchia decolorazione ciò abbiamo spruzzato color pro e poi abbiamo utilizzato il bond plus che dovreste conoscere perché è il prodotto che serve come è che di solito si mette nel decolorante per renderlo questo è il prodotto che voi probabilmente lo sapete questo è il prodotto che si mette nel decolorante per renderlo esatto ora lo vediamo un po' più nel dettaglio e cosa fa? protegge il capello e la fibra capillare per proteggere i capelli esatto in questo caso è stato messo puro sulle lunghezze per proteggerle ok in questo caso è stato messo puro sulle lunghezze per proteggerle vedete che qua sulla ricrescita quello che abbiamo inquadrato qua sulla parte scura è stata applicata la blonde 4 quindi la decolorazione in crema che come abbiamo detto per fare le ricrescite è sicuramente la migliore tra le tre ricordandovi che il suo potenziale di schiaritura arriva fino a 7-8 livelli di schiaritura ok ovviamente poi abbiamo fatto doppia dose di 20 volumi quindi 40 grammi di blonde 4, 80 grammi di 20 volumi quindi volumi alti non vi servono a niente imparate quindi la cliente qua ha una base tra i 4 e i 5 quindi una base piuttosto scura Ora andiamo a vedere il lavoro tecnico, ma poi vi voglio dire una cosa sul decolorante che vi sarà utile anche quella... Ok, qua adesso, adesso vediamo nel dettaglio il lavoro, qua adesso... E poi abbiamo fatto, una volta decolorata, abbiamo fatto lo shampoo, e poi abbiamo usato 30 grammi di 0,12, come vedete qua, con 10 grammi di mercurio. E poi abbiamo usato 30 grammi di 0,12 e 10 grammi di mercurio. E 2 grammi addirittura di ambra per dargli un effetto non troppo grigio, ma più un platino freddo, un silver. 2 grammi di ambra, ambra è il yantare, per il fatto che non abbia l'acqua di oliva. Allora, qual è il problema qua, ragazzi, quando affrontate questo... Ah, è il problema, ragazzi. Se non bisogna sottovalutare mai, mai, non va sottovalutato. E' questa zona qua, la vedete? Questa zona è la più difficile. Questa zona con la vecchia decolorazione, quella che c'era prima... E' la zona nuova. E' la nuova zona. Perché voi dovete immaginare che quando mettete il decolorante qua... Voi, per forza di cose andrà anche sull'ultima parte decolorata prima. Quindi, che succede? Se il decolorante sta in posa, per esempio, 50 minuti... Vuol dire che sarà 50 minuti anche sulla parte che è già bionda platino, la vecchia schiaritura... E' impossibile non toccare questa parte. E' impossibile... Quando vado ad applicare il colore... E' impossibile non toccarla, perché se no succede questo... Ok? Succede questo e questo è un disastro. Dillo proprio, questo è un disastro. E' un disastro. E' un trendetto, proprio. Perché se io non tocco la parte bionda vecchia... Perché... Perché se io non vado a lavorare... E' un esprimato. E' un esprimato, proprio, perché io devo fare attenzione a non rovinare ulteriormente le parti che sono già decolorate. Quindi bisogna dare molto attentioni a quelle zone che già erano abbastanza prima. Quindi bisogna dare le zone che erano abbastanza prima o un po' dopo, e questa strada si trovano 50 minuti. Posso avere i decoranti migliori del mondo, ma da questo punto... Posso fare questo? Che posso fare? Posso utilizzare il Bond Plus puro. Posso utilizzare il Bond Plus, che sarebbe poi lo Zero Plus che voi credo conosciate... Ora si chiama Bond Plus. Il Bond Plus è il Noi Plus, che voi bene lo sapete. Allora, un attimo che... Eccolo qua, ve lo faccio, ve lo mostro. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Il Bond Plus fa parte di un sistema... Il Bond Plus, questo è il gruppo. Vedete? Serve per proteggere i capelli durante la schiaritura. che è specifico per questo. Il problema è che è necessario per proteggere i capelli durante la schiaritura. Di solito se ne mette due grammi ogni 10 grammi di decolorante... ...dietro la miscela. Cosa è la vostra? Dieci o due? Due grammi ogni 10 grammi di decolorante si mette. Ok? Allora, se che va a scatire, è molto importante. Potresti ripetere? Certo. Allora, ogni 10 grammi di decolorante, di polvere o di crema decolorante, aggiungo 2 grammi di questo Bond Plus. Ok. Perchè, per ogni 10 grammi di crema di decolorante si mette. Perchè, per ogni 10 grammi di crema di decolorante si mette. Ok. Perchè, per ogni 10 grammi di decolorante si mette. Ok. Allora, basta, basta. Se lo voglio mettere nel colore, tipo il toner o tipo il colore Absolut, ne metto un grammo ogni 10 grammi di colore. Se io voglio sempre aggiungere, diciamo, di crema o di toner, per 10 grammi si mette 1 grammi. Questo è un prodotto ricco di proteine, con il K-Pro. Questo è molto pieno di proteine. Quindi ricompensa molto il capello durante la schiaritura. Perciò le proteine che si perdono durante la schiaritura. e in più protegge i legami del capello durante la schiaritura. Facce che si rompano di meno, che siano più protetti. Quando usate il Bond Plus, poi c'è la crema da utilizzare, che è questa qua. Questa è il Restorative Mask che va a concludere il processo del Bond Plus. Questo è un prodotto che si chiama, non vedo come. Inoltre, questo è un prodotto che si chiama il prodotto. Ho fatto lo shampoo, se è il mio Blond. Quindi quando vi smyli l'obescezionante il prodotto, faccio la mia maschera Restorative per 3-5 minuti. E ovviamente ho un capello veramente molto strutturato e molto protetto. Stavolta però, tornando alla nostra situazione, noi l'abbiamo usato in modo diverso. Ma il tema è di lavorare un po' per un uomo. Ora, a volte per tutti. Se lo trovo. Guardate. Non so, voglio fare una cosa. Vediamo se ce l'ho qua. Allora. Allora, non voglio fare vedere una cosa importante. Ho toccato un po' che la stessa è un vaso non è vero. Grazie. 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 Ecco, scusate. Ecco, scusate. Allora, quindi io lo posso, mi state vedendo? Guardate lo schermo. Io lo posso applicare, mettere dentro il colore, ma lo posso usare puro. Io posso usare questo prodotto puro sui capelli che sono già decolorati. Lo metto sopra. Quindi, tornando a noi, questa fase è importantissima, ricordatevelo sempre. Tornando a noi, lo vado a mettere sulle parti. Quindi, poi applico la mia decolorazione. Ecco, poi ho usato colorazione o decolorazione. Decolorazione, decolorazione. Poi ho usato colorazione, che ovviamente devo, eccola qua, allora, e che io devo assolutamente applicare per forza di cose anche sulla parte che è vecchia, della vecchia decolorazione. Se ho tanta ricrescita, se il cuore è molto grande, allora io posso applicare prima la zona, diciamo, a un centimetro di distanza dalla cute. Se volete fare una bella decolorazione, questa cosa ve la dovete sempre ricordare. Se volete fare una bella decolorazione, questa cosa ve la dovete sempre ricordare. Quindi posso applicare prima questa e dopo 10-15 minuti vado ad applicare la parte dell'attaccatura vicino proprio alla... Adesso io la faccio in questa zona, dove ho mostrato il corso, e dopo 10-15 minuti la faccio in questa linea rossa del volo, proprio al coso del coso del coso del coso del coso. Ok, quindi qua ci sono i procedimenti. Allora, adesso vi faccio vedere una cosa. Nelle colorazioni utilizzate... Vedete che sulle lunghezze, una volta ottenuto il risultato, si può applicare ancora... Perchè io qua ovviamente ho anche un po' di vecchio giallo, voglio questo colore, cioè voglio questo colore qua. Gli ultimi minuti posso preparare? Vedete la blonde 4? Addirittura miscelata 1 a 4, invece che 1 a 2. Perciò 40 grammi di blonde 4 e 120 grammi di 5 volumi. E quando io sono molto vicino, che la mia attaccatura sia schiarita bene... All'obiettivo finale, io vado ad applicare su lunghezze punte questa miscela veloce per 5 minuti. Questo ovviamente va a creare una, diciamo, uniformità di decolorazione, quindi ho un colore uniforme, quindi poi lo posso tornare... Ok, quindi adesso qua voi vedete sulla tonalizzazione alcune caratteristiche. Dunque, vedete che qui ci sono diversi esempi, allora me ne voglio fare uno per tutti che... Allora, può succedere, come si vede in questo caso qua, vedete che qua i capelli sono più chiari sulle punte, lo vedete? Può succedere, può succedere perché ci sono vecchie decolorazioni... Può succedere perché ci sono vecchie decolorazioni... Quindi prima di fare il lavoro di tonalizzazione con queste tonalità, adesso ne parleremo meglio... Devo creare un'uniformità... Uniformità, devo ripigmentare, ridare prima un strumento... Allora, segnatevi bene questa miscela che state vedendo qui, questa... Per esempio, 10 grammi di 0,93 che è il toner... 10 grammi di 0,93 che è il toner... E un grammo di ambra... E un grammo di ambra... E andrò a mettere l'acqua ossigenata a cinque volumi, uno a tre... Quindi per capirsi... Adesso, nonostete... Dabavete acchisliteli in 5 abbiomi in sottosso di 1 a 3... Giusto per darvi... Mettiamo un grammo... 1 grammo di ambra... Più, ovviamente, l'acqua ossigenata viene messa... Plus a chisliteli... 30 grammi... 5 volumi... 30 grammi a 5 abbiomi... Questo passaggio è importante perché... Questo momento è molto importante... Se io voglio un colore così... Questo vi servirà sempre, ragazzi... Se io voglio un colore così compatto, così pieno... Se io voglio un colore così compatto, così pieno... Se io voglio un colore così compatto, così pieno... ... se non abbia poi... Perché se vado a mettere i colori freddi... I colori freddi poi... Sulle parti più chiare tendono a diventare magari quasi color grigio e sulle parti meno chiare diventano neutre, quindi l'effetto non è bellissimo. Facendo in questo modo, che cosa faccio? Io vado con l'ambra, adesso questo è un esempio un po' più forte, vado a ripigmentare le zone che sono diverse. Ecco che dopo, questa cosa la tengo in posa 10 minuti, risciacquo e posso fare la mia tonalizzazione, come abbiamo visto prima. 30 grammi 0,12, 10 grammi di mercurio, secondo... 30 grammi 0,12, 10 grammi di mercurio. Ok, allora, ci siamo fin qua? Ci sono domande? Vapro se esco, leghi. Ok, allora, nel biondo la situazione, diciamo le situazioni possono essere tante e anche abbastanza complesse. Allora, adesso io voglio affrontare abbastanza... La biondo mi spazio, non 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 mi spazio. Quindi, la prima cosa che io devo ottenere sempre, nella mia, diciamo, nel mio lavoro, è l'uniformità di colore. Se il mio capello non è uniforme nel biondo... Quando applico i colori freddi, non avrò un bel effetto, avrò degli effetti un po'... Allora, per esempio, osservate questo tipo di lavoro, no? Se io voglio ottenere questo tipo di risultato... La mia schiaritura, ovviamente, deve essere sempre almeno un 10.3. La mia schiaritura bianca per decolorazione, l'effetto bianco per decolorazione, è un effetto sbagliato. È un effetto sbagliato. Perché? È un неправильo effetto. Perché quando voi avete portato il capello al bianco con il decolorante... Perché quando intendi bianco devo tradurre bianco bianco... Nel senso, quando io decolorando il capello scuro lo porto talmente chiaro che sembra bianco... ... 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